In primo piano la cronaca con quanto accaduto ieri sera nel CPR di Palazzo San Gervasio dopo la morte di un 19enne di origine algerina per causa in corso di accertamento è scoppiata la rivolta all'interno della struttura con il fuoco appiccato a quattro moduli, la situazione è tornata sotto controllo soltanto in piena notte. A San Severino Lucano in corso le indagini per distraire agli autori alla matrice dell'atto intimidatorio ai danni del parroco Don Antonio Logatto che nei giorni scorsi ha trovato sotto la porta della canonica un messaggio minaccioso. Licenziata dalla Totale dopo la gravidanza, dopo il caso denunciato dalla Wilm sentiremo le parole di Lucia che si è ritrovata senza lavoro dopo dieci anni. Il 13 e 14 agosto torna a Pietragalla l'ormai tradizionale appuntamento con Cantina Arte nel suggestivo parco urbano dei Palmenti, la due giorni presentata nel corso di una conferenza stampa. Nella pagina sportiva spazio al calcio di Serie C, il passaggio di Saporite alla Lucchese sblocca il mercato in casa potenza con il rosso blu che hanno messo a segno il colpo Firenze, centrocampista di qualità ed esperienza che può vantare 75 presenze e 14 gol in Serie B. Buon pomeriggio e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione dalla Basilicata. In primo piano in questa edizione c'è la cronaca con la rivolta di ieri sera all'interno del CPR di Palazzo San Gervasio innescata dalla morte di una diciannovenne di origini algerine. In corso le indagini coordinate dalla Procura di Potenza che ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso. I disordini sono andati avanti per circa tre ore sul posto, la polizia, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 ma nessuno tra i rivoltosi e tra le forze dell'ordine è rimasto ferito. Il punto nel servizio di Mariolina. Un dramma annunciato. La situazione nei CPR d'Italia resta incandescente sebbene sedata per quanto possibile dalle forze dell'ordine. Si indaga per capire cosa abbia dato fuoco alla miccia innescando la rivolta nel centro di permanenza e rimpatrio di Palazzo San Gervasio un centinaio gli ospiti. Ci sono volute circa tre ore per riuscire a ripristinare l'ordine con un notevole dispiegamento del personale di polizia. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Da quanto si è appreso sarebbe stato il decesso nel pomeriggio di un ospite e le 19enne di origini africane, Usama Belmaham, a spingere gli altri migrati alla protesta. Una serie di focolai sono stati appiccati in quattro moduli della struttura rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Stando a quanto riferito dall'ASP che ha inviato nella zona 5 ambulanze un elicottero per il soccorso, sarebbe morto per cause naturali in seguito ad un arresto cardiaco. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte. La procura di ipotenza che sta conducendo le indagini ha disposto l'esame autoptico sul cadavere del giovane, come dichiarato dal procuratore Francesco Curcio incontrando i giornalisti. Ci tengo a smentire alcune notizie che sono comparse sui mezzi di informazione, e cioè sul fatto che il ragazzo, 19enne, di origine algerina, trattenuto nel CPR, sia morto a seguito di percorsi. Non ci sono segni di violenza e quindi è stata disposta una consulenza perché certamente non sembra assolutamente dipendere da cause naturali il decesso del povero ragazzo. Certamente vi sono stati poi dei gravissimi disordini, vi sono stati dei gravissimi fatti criminali perché è stato dato fuoco ad alcune strutture del centro di Palazzo San Cervasio. Faccio presente che noi sono anni che indaghiamo sul CPR di Palazzo San Cervasio, sono state emesse misure cautelari, le indagini sono state chiuse proprio il mese scorso, a carico di oltre 20 persone. Abbiamo più volte sottolineato come questa indagine molto lunga, molto complessa, abbia evidenziato la criticità di un sistema che affida a privati la tutela dei diritti primari di soggetti che seppure vanno espulsi sono comunque persone che sono titolari di diritti universali come qualsiasi individuo. E purtroppo abbiamo constatato anche nella giornata di ieri, è intervenuto direttamente un magistrato dell'ufficio con la Polizia Giudiziaria che al momento del loro ingresso in un centro di quelle dimensioni che ospita decine e decine di stranieri prossimi all'espulsione vi era un solo infermiere nell'infermeria, neanche un medico era presente. Questo è un fatto che deve far riflettere, questi centri sono necessari ma bisogna, come dire, gestirli secondo criteri che tutelino i diritti. Un episodio stigmatizzato dal sindaco di Palazzo San Gervasio, Luca Festino, il Comune non ha mai avuto canali di comunicazione istituzionale sulle vicende all'interno del CPR, ha dichiarato il primo cittadino. Vedere il nome del mio paese alla ribalta delle cronache per fatti come questi ed altri mi rattrista molto, ha aggiunto, la tutela della vita in tutte le sue forme è in assoluto la prima ragione dell'esistenza umana. Dello stesso tenore all'intervento della Secretaria di Potenza della CGL, il sindacato torna a sollecitare la chiusura dei CPR in quanto non garantiscono il diritto d'asilo e il rispetto dei diritti umani nel mirino delle parti sociali il Governo nazionale che sulla questione non è stato in grado di mettere in campo una strategia lasciando che nei centri del paese la situazione diventasse esplosiva. Ed ora andiamo a San Severino Lucano dove il giovane parroco Don Antonio Logatto è stato vittima di un grave atto intimidatorio al sacerdote, la vicinanza e la solidarietà dell'Associazione Libera che chiede di fare completa chiarezza sull'accaduto. Ce ne parla Mara Risola. Da un lato la scritta Don Antonio attento, dall'altro il simbolo della croce del Cero Pasquale con l'indicazione dell'alfa e dell'omega e due numeri, il 92 e il 24. E il contenuto del foglio lasciato qualche giorno fa da ignoti sotto la porta della canonica di Don Antonio Logatto, giovane parroco di San Severino Lucano. Un grave atto intimidatorio che ha scosso l'intera comunità, condannato con fermezza dall'Associazione Libera a prescindere dalla matrice. I numeri sarebbero facilmente riconducibili all'anno di nascita del sacerdote e a quello in corso, ma per fare completa chiarezza sull'accaduto sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine. Tali minacce, evidenzia il presidio di Senise e Sant'Arcangelo di Libera, rappresentano un attacco non solo alla persona di Don Antonio, ma simbolicamente anche a tutti coloro che, come lui, operano quotidianamente per il bene della comunità e la diffusione dei valori della legalità e della giustizia. Nell'invitare tutta la comunità e le istituzioni a stringersi attorno a Don Antonio, Libera lancia un appello a chiunque sia in possesso di informazioni utili su quanto accaduto per comprendere meglio la matrice dell'atto intimidatorio e dar manforte alle indagini in corso. In questi casi, conclude l'Associazione Antimafia, è bene che ad occhi che sanno guardare si accompagnino anche bocche che hanno il coraggio di parlare. Sarà attivo a partire da lunedì 12 agosto un collegamento bus tra Potenza e l'aeroporto di Ponte Cagnano. L'annuncio da parte della regione Basilicata riguarda la navetta che partirà dal terminal bus di Viale del Basento alle 5.50, 6.30, 13.50 e alle 18.00. Da Ponte Cagnano invece i bus diretti a Potenza ripartiranno alle 15.00 e alle 19.30, previste inoltre fermate intermedie anche a Picerno, Sicignano e Battipaglia. Ed ora cambiamo pagina licenziata dopo la gravidanza. La Wilm denuncia quanto accaduto ad una lavoratrice della Totala Tempa Russa che al microfono di Vittorio Laviana ha raccontato la sua storia. Vediamo. Lucia è una giovane madre di due figli che racconta di aver iniziato a lavorare nel progetto Tempa Rossa nel 2014 come assistente di direzione per Total. Oggi però non le viene rinnovato il contratto. Ho iniziato a lavorare a Tempa Rossa nel 2014 all'inizio della costruzione e poi successivamente dopo sei anni sono arrivata agli uffici Total nel Dipartimento dei Servizi Generali. Dopo circa tre anni, a seguito della mia seconda gravidanza, mi sono vista il mio contratto non rinnovato. Il 31 dicembre mi scadeva il contratto dopo una serie di rinnovi e mi è stato comunicato che il mio contratto non veniva rinnovato senza nessuna spiegazione e nessuna motivazione. Lucia non ha perso le speranze di poter rientrare a lavorare. Mi aspetto di poter avere la possibilità di parlare con il menagement della Total e capire i motivi che hanno portato a questa scelta. Ad oggi non ci hanno dato nessuna spiegazione al riguardo. La protagonista di questa storia si sente una donna ingiustamente penalizzata. Sia a livello lavorativo ma soprattutto a livello umano mi sento umiliata perché non mi aspettavo minimamente un epilogo del genere dopo aver lavorato e aver dato il massimo per Tempa Rossa. Al fianco di Lucia c'è la Will Basilicata. La storia di Lucia è l'immagine di quello che succede molte volte dentro il centrale di Tempa Rossa. Sia nel rispetto delle regole, sia nel rispetto del fatto di sito, sia nel rispetto del valore del lavoro, del valore della sicurezza. Con Lucia abbiamo iniziato questo percorso che non molleremo perché lo dovremmo necessariamente portare a termine e lo porteremo a termine solo qualora a Total darà una risposta. Una risposta che per noi significa riprendere, ricollocare Lucia dentro le attività del centrale di Tempa Rossa perché dopo dieci anni di precariato è ingiusto e discriminatorio soprattutto per una donna essere cacciata via in quella maniera con la scusa di una maternità che scadeva, di un contratto che scadeva il 31 dicembre 2023 e soprattutto nella formula e nel metodo utilizzato da Total per disimpegnarsi dagli impegni assunti con Lucia. Quello di attendere, attendere e prendere in giro questa lavoratrice che diventa umiliante in una comunità come quella a Lucana dove Total estrae petrolio, tanti soldi ma ancora non ha capito il valore stesso del lavoro, il valore dei lavoratori e delle lavoratrici. Ed ora andiamo a Matera dove dopo il varo della quarta giunta a Bernardi, giovedì 8 agosto alle ore 16 torna a riunirsi in seduta straordinaria il Consiglio Comunale di Matera. All'ordine del giorno l'avvicendamento tra gli scrani del parlamentino cittadino tra la dimissionaria Anna Teresa Ramundo e Michele Centonze, nonché l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale dei due Vicepresidenti, attorno alla quale nelle scorse settimane si era annidata la crisi all'interno della maggioranza culminata con la nomina di una nuova giunta da parte del primo cittadino dopo che per diverse sedute era venuto a mancare il numero legale. Lucani né formiche né cicale. Secondo i dati Infostat della Banca d'Italia rielaborati dal sole 24 ore sale il risparmio delle famiglie potentine e materane, ma l'incremento in linea con quello riscontrato a livello nazionale. Sentiamo Isabella D'Andrea. Lucani a metà strada tra formiche e cicale, anche se tra le famiglie della nostra regione sale il risparmio sia fermo sui conti correnti che investito in titoli di Stato. È la fotografia aggiornata ad aprile 2024 che emerge dai dati Infostat della Banca d'Italia, rielaborati dal sole 24 ore. In particolare tra le 103 province monitorate, quelle di Potenza e Matera non trovano posto né tra le prime 20 della classifica della ricchezza delle famiglie consumatrici né tra le ultime 20. Il trend di risparmio, secondo gli esperti, ha due velocità. Negli ultimi sei anni i risparmi investiti in titoli sono saliti del 20% a prezzi costanti, mentre i depositi bancari hanno perso il 2% circa. Sono dunque cambiate le scelte di risparmio dei clienti, evidenziando un calo nell'appeal dei conti bancari e la ricerca di soluzioni diverse e più redditizie. Anche il rapporto di giugno della Banca d'Italia ha studiato la ricchezza e l'indebitamento dei lucani. Ci sono province in cui la ricchezza complessiva delle famiglie è aumentata rispetto al 2018. A Potenza e Matera l'aumento supera il trend nazionale. Secondo gli esperti, dove la ricchezza è più elevata, accelera la corsa ai titoli in custodia e la volontà di investire alla ricerca di rendimenti maggiori alimenta la fuga dai conti correnti. Ma un capitolo a parte merita l'altra faccia della medaglia, l'indebitamento delle famiglie lucane, che nel corso del 2023 si è ridotto attestandosi al 34,4% contro il 48,9% in Italia. Anche se si osserva comunque un'espansione dei prestiti per finalità di consumo, riconducibile a un ampliamento della platea dei prenditori, diffuso soprattutto tra la clientela ha già indebitato il 57% e con il 35% dei contratti stipulato in Basilicata da soggetti appartenenti alla classe caratterizzata da maggiore rischio, contro il 27% in Italia. Trasporti dovrebbe partire a fine settembre il servizio metropolitano delle ferrovie Appolo-Lucane sia a Potenza che a Matera. Ad annunciarlo l'assessore regionale alla Ramo Pasquale Pepe, che tra oggi e domani incontrerà FAL, le province di Potenza e Matera, RFI, per fare il punto della situazione. Con la riqualificazione delle stazioni e con le fermate che saranno inaugurate, evidenze a Pepe, sarà potenziato significativamente il trasporto pubblico locale. L'obiettivo è quello di migliorare la qualità dei servizi e la mobilità per Potenza e Matera, riducendo sempre di più l'esigenza per i cittadini di muoversi con mezzi di trasporto proprio e consentendo ai visitatori di fare esperienze turistiche senza disagi. La pagina degli eventi estivi. A Pietragalla tutto pronto per il tradizionale appuntamento con Cantinarti in programma il 13 e 14 agosto nel suggestivo parco urbano delle Cantine dei Palmenti. La due giorni è stata presentata a Potenza nel corso di una conferenza stampa. Sentiamo Lucia Pietrafesa. Musica, cultura, arte e 30 stand enogastronomici nel suggestivo parco urbano delle Cantine dei Palmenti. A Pietragalla torna il tradizionale appuntamento con Cantinarte. Due giorni, il 13 e 14 agosto, per riscoprire gli antichi sapori e ammirare esposizioni artistiche e fotografiche. Non mancheranno ospiti speciali da Peppone Calabrese a Rocco Papaleo, contest ed esibizioni musicali. A chiudere la due giorni la travolgente energia di musica manovella. Il 13 e 14 agosto siamo pronti a ricevere tanti turisti. Ci auguriamo per vivere questo meraviglioso palco scenico, per vivere quella meravigliosa atmosfera che Cantinarte ormai da 11 anni riesce a dare a Pietragalla ma all'intera Basilicata. Quest'anno abbiamo puntato sui figli migliori della nostra terra, Peppone Calabrese e Rocco Papaleo, per far sì che la Basilicata torni ad avere un ruolo centrale all'interno del panorama nazionale. Innanzitutto noi esaltiamo la cultura e cerchiamo di creare questo cortocircuito tra modernità e passato, quindi le cantine, la storia, il vino. Abbiamo delle grandi mostre. L'anno scorso siamo riusciti a portare qualche Picasso, qualche Chagall da lì. Quest'anno abbiamo addirittura un Claude Monet, quindi di un collezionista che si è prestato a regalarci e onorarci della presenza di questo lavoro in Cantinarte. In chiusura la pagina sportiva con il calcio di Serie C, il passaggio di Edoardo Saporiti alla Lucchese sblocca il calciomercato in Casa Potenza. In maglia rosso-blu arriva Marco Firenze, centrocampista di qualità ed esperienza. Ce lo presenta Luigi Santopietro. È iniziato il conto alla rovescia che porterà dritto al gong di sabato 10 agosto quando alle 21 al Viviani ci sarà l'esordio ufficiale della stagione del Potenza contro il Cerignola in Coppa Italia. Ma a tenere banco in Casa Potenza è sempre il calciomercato che era rimasto in naftalina per un po' di giorni dopo l'abbuffata di arrivi pre-ritiro. E infatti l'uscita di Edoardo Saporiti, che oggi passa la Lucchese dopo 37 partite e 3 reti con la maglia del Leone rampante, ha sbloccato il mercato rosso-blu. E così si è concretizzato l'arrivo al Viviani di Marco Firenze, reduce da una discreta stagione a Messina, 24 presenze, un gol e tre assist, ma soprattutto giocatore che va ad aumentare il tasso tecnico e di esperienza del roster a disposizione di Mister De Giorgio. Il DS De Vito, appuntato sull'ecletticità del classe 93 nato trequartista ma che col passare degli anni ha arretrato la sua posizione giocando anche da mezzale e da centrocampista centrale. Capacità di adattamento che può tornare utile perché Firenze può giocare in qualsiasi ruolo della mediana, colmando anche l'eventuale vuoto del vice Felipe in cabina di regia. Per Marco Firenze, che in carriera ha giocato con Messina, Siena, Crotone, Catanzaro, Venezia e Salernitana, 75 presenze, 14 gol in sede B e circa 150 presenze e 45 reti in sede C. Ed è tutto per questa edizione, grazie come sempre per essere stati con noi, a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Grazie. Grazie. Grazie.